Quasi 2 miliardi e mezzo di persone in tutto il mondo, una persona su 4, avrà problemi di udito entro il 2050. Almeno 700 milioni di loro avranno bisogno delle cure e della riabilitazione. A lanciare il Monito, il primo rapporto mondiale sull'udito pubblicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità OMS, in occasione del World Hearing Day, la giornata mondiale dell'udito che ricorre oggi a cui partecipa anche Pescara. Oggi, in contemporanea con oltre 100 paesi, ci sarà il lancio del rapporto mondiale sull'udito. Noi che abbiamo seguito l'elaborazione di questo documento possiamo dire che veramente forse da oggi ci sarà un cambiamento epocale, perché questo rapporto contiene delle linee guida unitarie e soprattutto contiene una precisa indicazione ai governi degli stati membri ad intervenire, ad agire, a fare qualcosa. La mancanza di informazioni accurate ed atteggiamenti stigmatizzanti nei confronti delle malattie dell'orecchio e della perdita dell'udito spesso limitano le persone all'accesso alle cure, dice il rapporto dell'OMS. E anche tra gli operatori sanitari c'è spesso una carenza di conoscenze sulla prevenzione. Per questo manifestazioni come quella odierna, che si tiene in streaming a causa della pandemia, sono necessarie per continuare l'opera di sensibilizzazione verso la popolazione. L'OMS ci chiede di celebrare questa giornata per accrescere la consapevolezza su un senso così importante, troppo spesso trascurato. Specie in questo momento il lockdown, le mascherine, il distanziamento sociale hanno aggravato la condizione di isolamento di chi soffre di problemi di udito. Immaginate le difficoltà nella didattica a distanza, nel telelavoro, ma anche nei contatti affettivi, immaginiamo i nostri anziani. L'Italia fa da capofila, è stata tra l'altro premiata unica in Europa dall'OMS con un piccolo sostegno simbolico che sta a testimoniare la volontà e la bontà dei nostri progetti all'interno del panorama mondiale. Per cui da Pescara, capitale dell'Udito, parte questo grido d'allarme attenzione, l'Udito è un senso importante e questo nostro interessamento, questo nostro impegno valica ai confini nazionali, arriva appunto da Ginevra in tutto il mondo.